ciao bellissimi bentorni un nuovo video e oggi bellissimi e quel giorno ebbene sì sono lia salve bellissimi e oggi cari bellissimi siamo qua per andare a fare una cosa che ci tenevo molto a registrare ragazzi bene sì oggi andremo a fare la mia prima evoluzione regalata da clash royale e lavorando solo e lavorando solo grazie alle sfide e quindi bellissimi possiamo scioppare la bellissima evoluzione un like un'iscrizione una campanella ragazzi dai che li andiamo a testare ebbene sì bellissimi non direi di perdere altre chiacchiere e andarli ad usare allora ragazzi su chi vogliono fare carta evoluta io ragazzi veramente non ho più la più parli dell'idea e allora sapete che vi dico io lo dai uno su sei bene siamo a uno su sei 2 su sei dai completiamo il puzzle ok 3 su sei siamo alla metà poi andiamo a fare anche il 4 su 6 5 su 6 benissimo 5 su 6 e ragazzi 6 su 6 evoluzione bloccata no bloccata sbloccata scusatemi bellissimi e bellissimi mamma mia non vedevo l'ora la mia prima evoluzione scusatemi sta venendo una cosa rica sono felice ed eccola qui